amici digi case buongiorno e buon lunedì 6 novembre eccoci a valbondione guardate la neve finalmente è arrivata guardatela qua sulle cime proprio qui attorno addirittura lizzola paese proprio che è una frazione di valbondione dove ci troviamo ora la neve è arrivata dove quindi le piste sicuramente verranno aperte nei primi giorni di dicembre noi siamo ancora i primi di novembre e vi faccio vedere quello che state cercando ossia una villetta singola cielo terra con un bel giardino privato attenzione sentiamo un pochino i boscaioli che stanno sicuramente sistemando i boschi qui a valbondione ed eccoci qua per farvi vedere questa bellissima villetta tratto su tre livelli vedrete che c'è anche una taverna meravigliosa io mi sto avvicinando piano piano sia a questi cespugli meravigliosi che a questa villetta che davvero è tutto quello che cercate ha degli spazi esterni molto molto ampi vedete questa zona barbecue pavimentata e poi tutto questo giardino che va fin là fino alla punta del mio dito quello è il giardino privato e questa è la villetta in tutta la sua bellezza ora vi farò vedere tutti i dettagli intanto che vi mostro questo bellissimo agrifoglio che fa da contorno a questa villetta meravigliosa venite con me allora innanzitutto sono qui al cancellino d'ingresso questo è l'ingresso della villettina di testa vi ricordo che qui è sempre un complesso residenziale vedete che poi c'è una villetta a fianco questa ha la fortuna di essere la villetta di testa le spese condominiali sono davvero bassi superano di pochissimo i 500 euro all'anno e nei 149 mila euro del prezzo di questa villetta che poi vedrete è davvero molto bella sia in tutti i dettagli che come arredo c'è compreso anche il box ok quindi questo è l'ingresso abbiamo questo portichetto di ingresso poi noi entreremo da qua vi faccio rivedere nuovamente la zona pavimentata con la zona barbecue e tutto il giardino di proprietà ok entriamo nella villetta eccoci qua all'ingresso notate subito il calore il colore delle travi a vista che davvero dominano tutto tutta la villetta qui abbiamo un locale unico dove abbiamo una zona giorno una zona soggiorno con questa scelta di questo armadio sempre in legno a ponte che incornicia perfettamente già un primo divano letto i posti letto non riescono nemmeno a contarveli perché vedrete sono tantissimi vi ricordo che è su tre livelli questa è la prima finestra eccoci qua intanto vi faccio vedere anche la cornice di quello che si vede attorno guardate che meraviglia che vista straordinaria e che cielo blu che c'è oggi lunedì 6 novembre qui a valbondione ed eccoci qua dal punto di vista opposto in cui vediamo la scala come come vedrete in mentre mi avvicino la scala sale e la scala scende proprio perché vi dicevo che è su tre livelli quindi piano interrato dove c'è una bella taverna piano terra dove ci troviamo ora dove c'è la cucina vedete una bellissima cucina con lavastoviglie addirittura un bel camino è la zona la zona diciamo divano e dove c'è il primo bagno eccoci qua ne conteremo tre uno per piano questo è il bagno diciamo tra virgolette principale in cui c'è la doccia quindi box doccia da 80 per 80 nell'angolo il water e il bidet è un bel mobile lavandino vedete eccoci qua sul retro della casa dove vedete questa finestra c'è un intercapedine che fa anche da ripostiglio intanto che vi mostro il bel il bel cammino vi faccio vedere anche il ripostiglio nel frattempo da questa finestra si vede il nostro giardino privato vedete a parte pavimentata a siepe e tutto il giardino che continua fin laggiù fino dove vedete ecco il dito la ok invece qui abbiamo questo che è un ripostiglio vedete un intercapedine per togliere l'umidità la fondo c'è la caldaia autonoma metano e vedete una specie di lavanderia eccoci che è stata addirittura messo un calorifero e abbiamo proprio la lavatrice e anche la vaschetta per lavare il non ho acceso la luce erroneamente ritorniamo nella zona abitabile diciamo ed eccoci qua in quella che è la zona giorno come vedete tre ampi vetrate una due che quella dell'ingresso e tre dove c'è il soggiorno e il tavolo vedete che in questo caso è stato lasciato contro il muro ma ha davvero tanto spazio guardate le travi a vista che belle che sono mi piacciono molto questo colore da un tocco davvero unico andiamo prima facciamo al contrario andiamo giù andiamo prima nella taverna apriamo il cancellino facciamo tutto in presa diretta è così vedete che non ci sono nessun tipo di difficoltà andiamo in quella che è la taverna molto bella molto accogliente eccoci qua nel piano interrato chiaramente è tutto guardate perlinato guardate che bella la zona divano quindi una zona proprio con un pavimento molto bello qui c'è una stufa ma come vedete è tutto con il riscaldamento autonomo anche qua c'è la doppia finestra che da sull'intercapedine che guarda verso il giardino vedete queste sono le intercapedine bocche di lupo non so come le chiamate anche voi dalle vostre parti e qui oltre a questo questa tavernetta con questo divano che è un letto singolo è stata creata anche questa stanzettina matrimoniale guardate che bella che è sempre con l'intercapedine quindi con la luce che guarda su poi andremo nella parte superiore in cui ci sono altre due stanze da letto e con finestre anche un terzo bagno perché non avete ancora visto qui c'è il secondo bagno quindi bagno anche nella zona taverna lavandino e vatte le bidet sempre con la sua finestra che da sull'intercapedine sempre col calorifero non c'è nulla lasciato al caso quindi davvero molto molto interessante guardate che bella che ok spero che si riesca a percepire un po tutto il nostro intento è cercare di farvi entrare in anteprima ma chiaramente poi vi aspettiamo è perché non abbiamo l'ambizione di vendervi le case online e sapete che i nostri video non hanno l'ambizione di monetizzare quindi vogliamo soltanto in anteprima anche su richiesta come in questo caso un nostro amico di mantova ci ha chiesto prima di venire di poterla vedere dal vivo ok eccoci qua ancora da un giorno e ora andiamo su nella zona notte guardate che belli pavimenti entriamo prima in questa stanza questa che è stata utilizzata come camera diciamo matrimoniale guardate che bella vedete che i sottotetti sono molto alti e non picchio la testa letto matrimoniale guardate anche lo spazio che c'è davanti perché è sicuramente notevole qui si ha la finestra che guarda nel bosco guardate che meraviglia guardate i colori dell'autunno che iniziano ormai a impadronirsi anche di valbondione eccoci vedete la perlinatura che continua guardate le travia vista spero che con tutti questi cambi di luminosità si percepisca tutto e qua bagno privato in camera tac guardate che bello qua la vasca per rilassarsi scalda servietta water bidet e lavandino e finestrella che guarda nel bosco guardate che bello ecco lì il bosco qui non c'è la persiana esterna quindi c'è soltanto l'oscurante interno e quindi hanno messo questa inferiata anche se qua grazie a dio non c'è problema di ladri eccoci qua torniamo poi nella vano scale per intenderci per andare in questo locale questo locale non c'è una luminosità buona perciò andrò molto piano anche se è molto grande questa stanza guardate questi due letti singoli ma a me piace da impazzire poi dovreste sentire sarebbe bello potervi trasmettere il profumo che c'è quando c'è così legno vivo davvero molto molto affascinante mi giro per farvi vedere la lunghezza di questo locale là in fondo c'è un po più buio ma c'è un'armadiatura molto molto buona e anche da qua finestra tratta una bella scrivania quindi immaginatevi qua di scrivere qualcosa mandare una lettera una missiva come negli anni passati ed eccoci qua a dominare tutto il paese di valbondione qui siamo in alto in via galizzi ma con a piedi ci sono davvero tutti i servizi ok io terminerei quasi qui scenderei ancora per farvi vedere ancora una volta la parte esterna per chi magari si fosse collegato più tardi anche se sapete che i video su youtube in 4k sono visionabili anche sulla vostra smart tv quindi vi invito davvero a guardarli sulla vostra televisione per guardare tutti i dettagli guardate vi faccio vedere tutto questo giardino che è di proprietà esclusiva fino al muro e la villetta guardate che bella a me piace da matti e spero così anche per voi beh che dire grazie grazie davvero abbiamo superato innanzitutto i 20.000 iscritti a questo canale quindi se per caso siete tra i pochi non averlo ancora fatto mettete un like iscrivetevi al canale non perdete le anteprime esclusive sia in diretta che no qui sia da valbondione che dall'alta valle seriana a clusone dove c'è la nostra sede fra poco vi porterò anche nella casa di babbo natale che sta per aprire a clusone dove c'è la sede g case e poi via giù anche verso il lago di zeo a farvi vedere le nostre case vista lago 149.000 per una villa davvero imperdibile su tre livelli con box vi ricordo i contatti 0346 23933 per chiamare in ufficio o me direttamente 320 033 4332 io sono stefano grazie per essere arrivati fin qui nel video un caloroso saluto da me e da tutto lo staff di c case